Ben ritrovati, siamo oggi qua riuniti per sviscerare insieme la settima giornata di Serie A con i consigli sul fantacalcio di Nanni, ovvero tutto ciò che voi non dovete assolutamente seguire e ascoltare Quindi si parte subito venerdì, primo ottobre alle 20.45 con Cagliari e Venezia Cagliari che viene da una sconfitta e avrà voglia sicuramente di far tanti gol Io mi aspetto un over 2.5 o comunque almeno due gol da parte del Cagliari Ovviamente per chi lo sapesse i consigli di Nanni funzionano in questo modo Nel senso che io vi vado a illustrare i giocatori che secondo me possono andare a prendere un bonus Rispetto a quelli che magari possono prendere un buon voto Ecco quindi sono più suggerimenti propositivi o comunque volti a giocatori propositivi nella partita piuttosto che il contrario Quindi per Cagliari e Venezia mi aspetto almeno un due gol da parte del Cagliari Che ovviamente arriveranno molto probabilmente da Keita e Joao Pedro Probabilmente anche uno a testa, non mi stuperei Attenzione ovviamente all'assist di Marin, molto molto probabile E occhio anche a Nandez perché nonostante l'ultima partita sia stato abbastanza... Non abbia giocato abbastanza bene, comunque tutto il Cagliari abbia un po' subito il match Nandez è uno che ultimamente sta spingendo molto su quella fascia È dato vicino diverse volte al gol quindi occhio al probabile bonus di Nandez Dall'altra parte invece vediamo un Venezia che in realtà un gol secondo me può anche metterlo A quanto pare torna o inizia Ampadu a centrocampo finalmente Occhio ovviamente a calci piazzati da parte di Aramu Se proprio vogliamo indicare giocatori da bonus io mi aspetto più un bonus proveniente da Aramu e Jonsen Piuttosto che... o Johnson che si vuole piuttosto che dalla punta centrale Nel caso dovesse giocare Henry o Henry potete comunque provare a schierarlo Magari state accuorti verso insomma sullo scadere dell'inserimento della formazione Per vedere quella ufficiale, formazione ufficiale Magari schierare un Henry come terzo slot last minute Che potenzialmente dovesse giocare un gol potrebbe anche farlo Di Occhio e Re che non è che mi fidi più di tanto Quindi Marin, Keita, Jo, Pedro e probabile Nandez con un bonus Dall'altra parte invece troviamo Aramu e Jonsen Con un gol mi potrei aspettare un gol da parte di Aramu Più un assi da parte di Jonsen Da evitare secondo me la difesa del Venezia in questo caso Se non un Caldara che in queste partite magari può tirar fuori anche un 6-6 e mezzo Dall'altra parte in difesa sono comunque terzi e quarti slot Magari coperture per i vostri giocatori più forti che magari sono acciaccati O hanno una partita difficile come potrebbero essere per esempio Atalanta-Milan o Torino-Juve San Italiano mi aspetto almeno un over 2 e mezzo Quindi tanti 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 gol Sia da parte di una squadra sia da parte dell'altra Quindi sicuramente un gol sia da parte della Sentiara sia da parte del Genoa Genoa molto propositivo in attacco C'è un destro che sta segnando e gli va data fiducia Quindi direi di buttare dentro destro senza alcun problema Attenzione perché secondo me questa potrebbe essere la partita dove Nel caso in cui Callon dovesse giocare Può fornire almeno un assist E soprattutto io personalmente mi aspetto un gran bel gol di Hernani Da non sottovalutare Fares che a quanto pare, a quanto sembra Viene spostato addirittura in avanti, diciamo da esterno di centrocampo Viene spostato sì, sempre se nel centrocampo Ma in posizione un pochino più avanzata Io vi direi come la peste Rovella e Badel Sì Criccito che difficilmente secondo me troverà un altro rigore Se come terzo o quarto slot va e può essere messo E non mi spingerei oltre onestamente Attenzione a Hernani, attenzione a Hernani perché Ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha in pancia il gol Dall'altra parte invece troviamo la Salernitana Dove potenzialmente schierabile in difesa Che ci rida Che nonostante i voti per adesso non siano troppo brillanti Sembra comunque abbastanza propositivo come giocatore Quindi si sta impegnando molto Da schierare secondo me un Coulibaly M Che un potenziale assist o gol può riportarlo Più assist che gol magari mi aspetto Sta giocando bene quindi gli va data fiducia Chiaramente non sarà il vostro primo slot Però se dovesse essere indecisi tra qualche giocatore Insomma di quarto slot a centrocampo Sicuramente Coulibaly è una valida opportunità In attacco potrebbe essere la partita dove Simi si sblocca Potrebbe essere la partita dove Simi fa gol Quindi io punto tutto sul bonus di Simi Piuttosto che di Ribery e Gondo Da Ribery non lo so Io non ho fiducia Non ho fiducia in Ribery Onestamente spero che Spero per voi Spero per chi ce l'ha al fantacalcio Che mi vada a contraddire per questa giornata Quindi tra parentesi schieratelo Però non mi aspetto onestamente un bonus da parte sua Potenzialmente un 6-6,5 Se proprio siamo fortunati un assist Quindi da una parte mi aspetto un potenziale bonus da Coulibaly E tra molte virgolette Ribery E gol di Simi Dall'altra parte mi aspetto un gol di Hernani Un gol di destro E un potenziale assist di Fares e Ocallone Quindi attenzione Torino-Juventus Partita veramente veramente tosta Veramente difficile Tra l'altro troviamo una Juventus Che ancora non ha trovato proprio una quadra difensiva al top Soprattutto troviamo un Torino molto molto compatto E molto molto ferreo, roccioso Quindi secondo me sarà innanzitutto una partita da veramente tanti cartellini È un derby molto sentito E già per quello ovviamente ci saranno a prescindere Ma data la situazione delle due squadre Data una Juventus un po' sbilanciata È un Torino abbastanza ferroso Mi aspetto tanti tanti cartellini Quindi soprattutto occhio al centrocampo e alla difesa Ovviamente da parte della Juve schierabilissimo Quadrado Schierabilissimo anche Chiesa Attenzione a Kuluseski Nel caso dovesse partire da titolare Su SOS Fanta vediamo titolare Kuluseski Quindi io mi fido Vediamo titolare Kinn e Kuluseski Quindi io mi fido Kinn è abbastanza sicuro anche su fantacalcio.it Ovviamente da buttare dentro nel caso lo avesse preso Comunque rimane comunque la prima punta della Juventus Attenzione Della Juve io mi aspetto un bonus Secondo me finirà in una vittoria della Juve 2-1 massimo 1-1 di pareggio Mi aspetto comunque un gol da Kinn Mi aspetto un gol da Kuluseski E un assist a Quadrado Secondo me sono loro tre i giocatori che porteranno il bonus questa partita E direi grazie al cazzo Nanni Sono i tre più offensivi della Juve No, secondo me Chiesa questa partita verrà un pochino annichilito Non riuscirà a far troppo Si prenderà un 6 se tutto va bene Quadrado secondo me può spingere di più su quella fascia Che Aina e Rodriguez sono un pochino più Traballanti della parte destra del campo del Torino Mi sento molto Stefano Borghi in questo momento Mentre Chiesa avrà un pochino più di vita difficile con Singo dall'altra parte Occhio comunque perché le fasce Lo sapete le fasce Juric sono molto compatte E molto toste da superare Centrocampo Propriamente molto fallo sulla parte della Juve Kulusevski può sbloccarsi in questa partita Attenzione al bonus di Kulusevski Kino ovviamente prima punta appunto a centrale della Juve Va messo per forza Per forza Dall'altra parte invece se dovessi scegliere ovviamente dei difensori da poter schierare Nel quanto riguarda casa Torino Punterei sul classic Bremer E su Singo piuttosto che sui rimanenti tre Centrocampo possiamo dar fiducia a Pobegà Vediamo se Fanta costa da titolare Lo da titolare quindi possiamo dargli fiducia Brecalo è sicuramente un giocatore che ha voglia di fare È in ottima forma in questo momento Quindi chissà se un assist nasce fuori Secondo me il Torino difficilmente troverà la via del gol per questa partita Veramente difficile trovare la via del gol Mi aspetto più magari un tiro dall'istanza di Pobegà Tra l'altro che non è Pobegà E di Brecalo piuttosto che un gol da prima punta di Sanabria Quindi Sanabria io eviterei di schierarlo per questa partita Sarà una partita molto difficile per lui Quindi bonus mi aspetto più da Brecalo e Pobegà È anche un zingo secondo me Un assistino nel caso dovesse arrivare Può arrivare da quella fascia Non azzarderei a schierare altri titolari Perché volano, fiocano cartellini Soprattutto al centrocampo Quindi attenzione, attenzione, attenzione Prossima partita Sassuolo-Inter Sassuolo-Propulsione offensiva Sassuolo-Offensivo Tanti gol Sassuolo un grande gioco in attacco Per adesso io non l'ho visto E non lo sto vedendo Sta tirando avanti con l'acqua alla gola praticamente Dall'altra parte c'è un Inter deluso dalla Champions Abbiamo visto come si è riscattato contro il Bologna L'ultima volta Chiaro, il Bologna parte un pochino sotto rispetto a Sassuolo Però secondo me vedremo un Inter voglioso e goloso di gol Quindi attenzione alla goleada Inter Anche se il Sassuolo un po' traballante in difesa Buon centrocampo Se dovessi indicare potenziali bonus da parte del Sassuolo Secondo me potrebbero arrivare più su passaggi filtranti Oppure su tirata la distanza Quindi vi consiglierei o mi sento di consigliarvi Un Juricic e un Berardi piuttosto che un Bogat e un Raspadori Secondo me Bogat vedrà pochi spazi su quella fascia Proteta tra l'altro da Darmian e Skriniar Vedremo un Raspadori probabilmente in difficoltà con i difensori centrali dell'Inter Attenzione a Juricic che può far gol da distanza Soprattutto può fornire l'assist in un passaggio filtrante Che magari Berardi O comunque un cross taso basso magari Che Berardi può agguantare dopo un inserimento Berardi ovviamente rigorista Quindi da tenere in considerazione anche un potenziale rigore da parte del Sassuolo Secondo me finirà col Sassuolo almeno con un gol Mentre l'Inter almeno 2-3 gol li farà Dall'altra parte ovviamente schierabilissimo a tutta la difesa Secondo me Perisic può essere schierato per questa partita Secondo me Perisic può portare il bonus Attenzione a Cialanoglu che viene da 800 partite schifose di fila Quindi potenzialmente può sbloccarsi anche questo match Varela in forma ovviamente impossibile non schierarlo Brozovic probabilmente un cartellino lo prenderà Quindi attenzione al Malus In attacco invece a quanto pare partiranno Zeko e Lautaro Ovviamente schierabilissimo Lautaro Martinez e Zeko immancabili Ma anche un Correa subentrante Io azzarderei come terzo slot a buttarlo dentro Perché se no può entrare e far male Secondo me questi saranno i giocatori da bonus Ovviamente la difesa dell'Inter si prospetta un 6-6 in mezzo A testa almeno Sperando che i cartellini a questo giro Siano un pochino meno rispetto alla partita contro l'Atalanta Attenzione a Cialanoglu Attenzione a Perisic e a centrocampo Se non me sono questi i due nomi caldi per questa partita Ovviamente le due punte titolari dell'Inter Sono primi slot Primissimi slot o semi top Quindi vanno messi obbligatoriamente Mi aspetta un gol da Raspadori Barra Scamacca No No Secondo me non è la partita dove si sbloccheranno Trapparenzi Schierateli Per quanto riguarda l'Inter Fascia sempre in ballottaggio tra Darmian e Dumfries Nel caso siate o abbiate il ballottaggio Io comunque proverei a buttarli dentro Preferisco sempre un Darmian e un Dumfries in ballottaggio Quindi che giochi meno tempo uno rispetto all'altro Magari anche sbagliando il ballottaggio Facendo schierando quello che in realtà poi andrà a subentrare gli ultimi 20 minuti 25 minuti di partita Piuttosto che un Rogerio per farvi un esempio Dall'altra parte Attenzione alla difesa del Sassuolo Soprattutto ai centrali Perché saranno in grande difficoltà Occhio anche a Lopez e fratesi Lopez ovviamente mio pupillo Il mio personale pupillo però Rischia cartellino giallo Quindi Giuricic e Berardi da una parte Dall'altra parte c'è un logo Perisic A seguire Martinez E ovviamente l'altra punta che sia De Zeko o Correa Bologna-Lazio Bologna che nonostante le sconfitte Si affaccia spesso nella porta avversaria Sicuramente mi aspetto almeno un gol da parte di Bologna Ma mi aspetto una vittoria da parte della Lazio Schiacciante Se non schiacciante comunque Lazio che si porta a casa la vittoria Soprattutto gasata dopo il derby Non vedo motivo per il quale dovrebbe fermarsi contro un Bologna Nonostante giochi fuori casa Del Bologna io sconsiglierei onestamente la difesa Se proprio volete un De Silvestri Ma veramente come ultimissimo slot Centrocampo assolutamente da evitare Con Svanberg e Dominguez Svanberg ovviamente più di Dominguez Dato che è quello che maggiormente arriva al tiro E è un pochino meno di contenimento rispetto all'altro Attenzione che Soriano non si è ancora sbloccato Però a quanto pare non tira più neanche i rigori Non mi sento onestamente di consigliarvelo Farrow è tornato al gol Sì si è sbloccato Sì l'ho consigliato in live su Twitch Nell'ultimo fattacalcio Sì Però non mi aspetto grandi partite Secondo me il bonus arriverà Il bonus arriverà da Arnautovic Con potenziale assist di Soriano Barra Svanberg Mi aspetto più un assist di Svanberg Piuttosto che Soriano La Lazio ovviamente E ragazzi non posso non consigliarvi in attacco Pedro Immobile e Felipe Anderson Che sono Beh Felipe Anderson c'è tre pista Però comunque gioca in attacco Sono assolutamente da schierare Tutti e tre nel caso ce l'aveste Eviterei ovviamente Lucas Leiva a centrocampo Se è possibile Luis Alberto e Savic Da mettere in Sempre E comunque In difesa Onestamente Mi aspetto anche una buona prestazione Da parte di Lazzari e Cerbi e Isai Ecco Se dovessi Proprio tirarne fuori uno Sarebbe Luis Felipe Il sindaco ovviamente È irremovibile Lazzari e Isai Attenzione perché Arriverà secondo me un bonus Dalle fasce Probabilmente arriverà un bonus Dalla fascia destra Con Lazzari Che butterà dentro un assist Attenzione al gol di Felipe Anderson Attenzione al gol di Immobile Secondo me finirà su Una tre Più o meno Occhio perché queste In realtà Sono le partite dove Luis Alberto Tira la doppietta Non lo so Non lo so Non me la sento troppo Non me la sento troppo Perché fondamentalmente Nelle ultime Non dico che non abbia brillato Ma È rimasto un pochino fuori Della manovra offensiva Rispetto a tutti gli altri giocatori Però è anche vero Che ci sono determinate partite L'anno in cui Luis Alberto Come ha già dimostrato Anche in passato Tira fuori dal cappello La doppietta Questa potrebbe essere Una di queste Non lo so Non lo so È chiaramente da schierare Quindi se ce l'avete È una prima fascia E va schierata per forza Al massimo è tutto riguadagnato Io personalmente Vi aspetto più qualcosa Da parte per esempio Di Lazzari Piuttosto che Luis Alberto Ma Ve la butto lì così Su delle fasci del Bologna Veramente traballanti Ovviamente Immobile Secondo me con Bonifazi Vedel Troverà tanti spazi E avrà tante occasioni da gol Sampdoria e Udinese Credo che sia la partita Più difficile della giornata Pari con Fiorentina-Napoli Da pronosticare E anche da prevedere risultato L'Udinese e la Sampdoria Sono due squadre rocciose Che comunque per adesso Stanno affrontando Partiti difficili E si stanno comunque Dimostrando squadre Che sanno tenere testa Anche alle grandi Nonostante i gol presi Quelli non sono secondo me Troppo indicativi Delle prestazioni effettive Dei giocatori in campo Puterei più sulla Sampdoria Che se l'Udinese Dovesse indicare Una delle due vincenti Mi aspetto comunque un pareggio Da schierare Per quanto riguarda la Sampdoria La difesa Sì Perché no Sono sicuramente previsti Buonissimi voti Visto che l'Udinese in attacco Non è che sia poi così Micidiale E distruttiva Quindi schieratesi la difesa Ovviamente Colle e Yoshida Sopra gli altri Beresischi Peggiore di Augello Secondo me parte In Parte dietro Per quanto riguarda La fatta caccia da Samp Io schiererei Fossi in voi Candreva Che è in forma strepitosa Damsgaard Sarà la partita in cui si sblocca? Non credo proprio Secondo me sarà Sarà da rimandare La partita in cui Damsgaard Fa effettivamente vedere Che è Damsgaard E farà valere i suoi 20-30 Credi su 500 Che sono sicuro Avete pagato tale Quindi Candreva Sì Damsgaard Nì È comunque un terzo quarto slot Buono da mettere in caso Dentro comunque Mi aspetto un gol di Caputo Rispetto a Quali era Quindi secondo me I bonus di questa partita Arriveranno da Candreva e Caputo Piuttosto che Tutto il resto Dall'altra parte invece Se schiera benissimo la difesa Attenzione perché Molina Addirittura rischia La titolarità visto le ultime Recenti brutte prestazioni Però comunque è da schierare In ogni caso Sono sicuro che l'avete pagato A car prezzo Quindi provateci Dategli un ultimato magari Per ERA ovviamente Schierabilissimo La difesa dell'Undiriense Io vi direi Anche di schierarla Ben o male tutta Nel senso che sono giocatori Che in una partita del genere È vero che possono rischiare Che rischiano di prendersi Un bel giallo È vero però che In caso di pareggio Possono volare 6-6 e mezzo Da entrambi le parti Non indifferenti Che potrebbero anche Poi no Farvi accedere al bonus A un buon bonus Di modificatore di difesa Per quanto riguarda Il fattacalcio Vi consiglio per ERA ovviamente Titolare indiscusso Arslan piuttosto di Wallace In attacco Pussetto De Lofeu Dei due mi aspetto più Un bonus da De Lofeu Piuttosto che Pussetto Nel caso dovessi indicare Per forza un giocatore da bonus Attenzione a Beto È vero che è in ballottaggio È vero che parte dietro L'Undiriense l'ha pagato L'ha pagato a caro prezzo Deve iniziare a dimostrare qualcosa Deve iniziare a giocare Sta giocando Sta entrando Sta subentrando Sta entrando negli schemi Piano piano Io ve la butto lì E anzi me la butto lì Perché ce l'ho in tanti fattacalci Beto questa giornata Contro la Sampdoria Farà gol Quindi bonus da parte di Potenziali Pereira Barra Arslan De Lofeu Beto Attenzione a Molina E Stiger Larsen Che è un assist Secondo me Lo possono anche buttare in mezzo Dall'altra parte invece Candreva Caputo Verona Spezia Partita da Sium Piena di gol Il Verona è carico Come le mine Ci saranno tanti gol Continueranno i gol del Verona Secondo me sì Secondo me sì Questa è la partita Dove il Verona Può continuare a fare Almeno due gol La Spezia ne farà sicuramente Uno di sua sponte Dato che il Verona Comunque È vero che è molto offensiva Ma in difesa Sta ancora un po' Disequilibrio Un po' non balanced De Verona Mi aspetto Bonus Da Vi tiro fuori Vi tiro fuori dal cappello Il nome di Illich Che secondo me Questa giornata La inzuppa Fa proprio gol Potete scrivere Che sono un figlio di puttana Sotto i commenti Di Youtube Nel caso in cui Non crediate Che Illich Vada a fare gol Siete libri di scriverlo Non verrete bannati Illich La butta dentro Questa partita Partendo prima dalla difesa Schierabilissimo Faraoni Anche Gunter Ma in realtà tutta la difesa Del Verona Attenzione ai ballottaggi La andrei a schierare Senza troppi problemi Senza troppe riserve Faraoni Soprattutto Gunter Dietro Agli altri Ma occhio anche a Davidoviz Che secondo me Un 6-6 e mezzo Solo tira fuori Questa partita Centrocampo Ovviamente È impossibile non schierare Lasovic Barak E Illich Su sta partita Soprattutto Illich Attenzione che secondo me A sto giro È più il turno Di Illich E Lasovic Che già l'altra volta Me l'aspettavo Invece non ci è arrivato Mi aspetto più bonus Da Illich E Lasovic Piuttosto che Barak Attenzione anche A un potenziale Caprari Io non so veramente Chi consigliarvi Come prima punta Perché veramente qua Gioca Simeone Poi parte Kalinic Poi butti Kalinic Dentro Fa gol Simeone E viceversa Non si aprecia più un cazzo Ci sono in 6900 In attacco del Verona Ci avete Simeone Ci avete Kalinic Boh Io proverei a buttarli dentro Come terzo slot Perché comunque Nel caso Dovessero giocare Secondo me Un gol lo fanno Dall'altra parte Invece troviamo Uno Spezia Che comunque Ha risorse offensive Non ha paura di usarle Occhio Burabia La difesa Secondo me Saranno una sfilza Di 5-5 e mezzo Tranne che Bastoni Bastoni Ovviamente schierabilissimo Tra l'altro in forma Gioca bene Voglio giocare Buttatolo dentro Anche come terzo slot Burabia Un nome che Secondo me Tanto difensore Gioca centrocampo Quindi non male Da tenere d'occhio Verde Nel caso con cui dovesse giocare Va a tirare ovviamente I rigori Quindi sì Zola Buttatolo dentro Perché si sblocca Questa è la partita Dove la punta centrale Della Spezia Farà gol Zola tornerà al gol Fiorentina-Napoli Per l'ultima partita Della settima giornata Questa è veramente difficile Questa è veramente Veramente difficile Allora La Fiorentina Sta giocando bene Il Napoli Sta giocando ancora meglio Viene da una serie Di vittorie consecutive Si fermerà Secondo me Sì Secondo me Questa partita Finirà in pareggio Con probabile gol Da parte Della Fiorentina Mi sento di consigliarvi In difesa Milenkovic e Biraghi Soprattutto Che stanno giocando meglio Rispetto a Odriozola E Nasaci Che non sembrano Proprio ancora In gran forma Soprattutto Odriozola Lo vedo abbastanza Ancora traballante Al centrocampo Vi consiglierei Buonaventura Soprattutto gli altri Mentre in attacco Ovviamente Vlaovic e González Vlaovic è un primo slot Quindi farà Secondo me Gol Tonerà il gol Con questa giornata Contro il Napoli Probabilmente anche Su un calcio piazzato Mentre González Molto Molto offensivo Fa giocate Dribla Attenzione Perché può far male Dall'altra parte In difesa Non potete non schierare Cullibali Preferirei Di Lorenzo Su Mario Ruiz In questo momento Zammanghissa È un classico titolare Che Questa partita Probabilmente prenderà Anche il giallo Ma comunque roccioso Magari il 6 Se lo porta a casa Ruiz ovviamente Io ve l'ho consigliato Anche su Twitch L'ultima volta Ve ho detto Che avrebbe fatto gol Così è stato Va buttato dentro Perché in forma strepitosa Soprattutto giocano In una posizione Molto più avanzata Rispetto all'anno scorso Zelischi ha anche Assolutamente da buttare dentro Ma in realtà Tutto l'attacco del Napoli Ragazzi Tutto il reparto Offensivo Centrocampo Zammanghissa Forse a parte È da schierare Senza Senza ombra di dubbio Forse Se siete proprio Insicuri Su qualcuno Che potrebbe Non portare bonus Questa partita Secondo me Potete Tirare fuori Politano Dal gruppone E lasciare Comunque Il segno Zimène In attacco E Ruiz Zelischi A centrocampo Occhio perché Sarà una partita difficile A centrocampo Secondo me Voleranno cartellini Soprattutto in difesa Attenzione ai cross Attenzione ai calci piazzati Attenzione ai rigori Che potrebbero Fioccare Sia dalla parte Che dall'altra Probabile 1-1 Mi butto lì Gol di Vlaovic E gol del buon Insigne Roma-Empoli Golea da Roma La Roma Deve tirare fuori Il cazzo In questo momento Deve tirare fuori il cazzo O la topa Per non essere sessisti Ovviamente E metterlo in testa All'Empoli E' vero che L'Empoli Sta giocando bene E' vero che L'Empoli Comunque si difende bene Ma questa secondo me È la classica partita Dove la Roma Torna a segnare E torna a segnare tanto Mi aspetto 1-2 e mezzo Mi aspetto Una vittoria schiacciante La Roma Un potenziale gol Dell'Empoli Perché no Ci potrebbe sicuramente Arrivare Partendo proprio Dall'Empoli Vi consiglio In difesa Stojanovic Sopra tutti gli altri Che comunque Ha portato assist La giornata scorsa A centrocampo E' vero che Ricci ha fatto gol E' vero che Ricci sta giocando bene Però occhio Perché potrebbe essere Una partita da cartellino Una partita difficile Per Ricci Io onestamente Centrocampo dell'Empoli Vi consiglierei solo Bayrami Bayrami Che va a essere rigorista E va Come avete visto E come sotto Mi consiglio Essere Un uomo Di tutto campo E' sempre presente In ogni singola Fottuta azione Offensiva Dell'Empoli Pina Monti Secondo me Fa un cazzo Questa partita Se arriva un bonus Arriva da Bayrami Per il resto Eviterei Dall'altra parte Invece Schierabilissimo Ovviamente Tutta la difesa Della Roma Soprattutto Mancini e Vinia Secondo me Faranno una buona partita Veretù Sopra Cristante Ovviamente Veretù Prima fascia Quindi impossibile Non schierarlo Zaniolo Occhio Perché va in gol Questa partita Occhio a Pellegrini Quindi va schierato Occhio a Mkhitaryan Che può tornare al bonus Abram Da schierare Assolutamente Allora secondo me Il bonus Questa della Roma Più certo Rispetto agli altri Viene fuori da Zaniolo E Mkhitaryan Attenzione ovviamente Anche a un assist Pellegrini Abram Questa partita Fa gol Non lo so Vedo più Gol da parte Il centrocampo Piuttosto che Della prima punta Abram Su questa partita La vedo un pochino più Da smistamento palloni O appoggi Per appunto Inserimenti Dei centrocampisti Stesso discorso Per la Lazio Sono due squadre Molto offensive Con tanti giocatori Offensivi Veretù va schierato Sì Zaniolo Sì Pellegrini Sì Mkhitaryan Sì Abram Sì è inutile Se ce l'avete Li dovete buttare dentro Se poi vi prendo il bonus Tanto meglio Ultima partita Della giornata Atalanta-Milan Partita anche questa Abbastanza tosta Da suggerire O da tirar fuori Comunque potenziali Nomi interessanti Partendo dall'Atalanta Che gioca in casa Vi consiglierei Un Jim City Che sta giocando molto bene Un Toloi Da non sottovalutare Come buoni voti Mi aspetto anche un buonissimo voto Se non un bonus Da Gosens Che è in forma strepitosa Sta iniziando a ritornare In forma strepitosa Froiler E Deron Li eviterei Preferibile Malinowski Che ha ingranato È tornato al tiro È tornato al goal Si è sbloccato Va schierato Sì Pessina Secondo me potete schierarlo Potenzialmente può potarvi Anche un assist Difficilmente arriverà il goal Questa partita Ma un assist ve lo porta Zapatone ovviamente Prima fascia da schierare Senza ombre di dubbio Da chi mi aspetto un bonus Assist Assist da parte di Gossens E Pessina Goal Barra assist da parte di Malinowski Goal da parte di Zapata Attenzione a Froiler Nel senso Attenzione a schierarli Perché non sarà una partita facile Secondo me Dall'altra parte Vediamo un Milan Che viene fuori Da una sconfitta E meritatissima Contro l'Atletico Madrid Un po' ingenua E anche ovviamente Discutibile Per quanto riguarda L'arbitraggio In difesa Che vi consiglio del Milan Teo Hernández Vi consiglio Xajiger Vi consiglio assolutamente Tomori E vi consiglio anche Calabria Secondo me potete schierarla Senza Senza troppi dubbi Nel caso avesse uno di questi giocatori Possono far bene Possono prendere buoni voti Nonostante sia una partita difficile Occhio a Teo Hernández Che può portare bonus Occhio al 6 e mezzo Di Xajiger Ovviamente So che non si pronuncia così Ma ormai è diventato un meme Del fantacalcio Centrocampo Che si tonali Difficile Veramente difficile Forse che si Più di tonali Rigorista Sempre che non vada a tirare Una mina Come ha fatto l'ultima volta Potenziale Sì Se la manca Io lo eviterei Lo eviterei proprio Come scravità Lo tirerei da parte Per questa partita Non lo vedo Anche se sta giocando benissimo E in forma Non lo vedo troppo Portatore di bonus Portatore di buoni voti Diaz Ovviamente va schierato per forza Perché è in forma strepitosa E smagliante Rafaela Rebic Mi aspetto più un gol di Leao Piuttosto che Rebic Giru titolare Va messo Cioè va messo assolutamente Comunque È la prima punta del Milan Il Milan è molto offensivo Sta facendo girare bene la palla Diamoli fiducia Secondo me ci sarà una partita da gol Finirà potenzialmente 2-1 per una squadra Mi aspetto più un 2-1 Da parte del Milan Piuttosto che dell'Atalanta Se non un bel 2-2 Un po' Replicando Inter-Atalanta O Atalanta-Inter Non mi ricordo Dell'ultime giornate Onestamente Non mi aspetto proprio Un secchio Di gol Non mi aspetto un secchio di gol Mi aspetto quel classico Quel tanto basta per vincere Quindi non sarà sicuramente Una vittoria schiacciante Da parte di una parte di un'altra Vi ripeto Un 2-1 Piuttosto che un 2-2 Proprio tirato lì Quindi bonus da parte di Gosens Pessina Con l'assist Malinowski Zapata con gol O assist Dall'altra parte invece Teo Hernandez Assist Che sì Potenziale rigore Segnato Diaz Potenziale assist E Leao O Giroud Coloro che butteranno dietro la palla Più Giroud Di Leao Quindi Attenzione 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 Perché comunque è una partita Tirata Una partita insomma Molto difficile Anche difficilmente pronosticabile Quindi potenzialmente può finire anche per dire 4-0 per l'Atalanta È un po' strano Un po' strano soprattutto l'Atalanta è una squadra strana Il Milan sta giocando bene Non è assolutamente facile Detto questo Direi che ci siamo Spero che andrete a fidarvi di me A fidarvi di quello che vi ho detto O meglio Spero di no Se mi state seguendo su Twitch Sappiate che nel caso in cui su YouTube non venga pubblicato I consigli di fatta calcio sicuramente verranno fatti su Twitch Purtroppo le ultime giornate sono mancate Perché sono state veramente appiccicate Rispetto insomma all'ultimo Ovvero la quarta che abbiamo fatto E abbiamo caricato qua su YouTube Purtroppo i tempi sono quelli che sono Io do assoluta priorità a Twitch Vi ripeto Se non lo vete su YouTube Sono su Twitch Comunque ogni giorno Live dalle 11 Mezzogiorno Fino a tardo pomeriggio Poveriggio in oltrato Vi aspetto ovviamente Vi ripeto che se mi avete dato un pochino di ascolto Vi siete presi anche dei bonus Molto interessanti Nelle ultime giornate Veramente Nomi inaspettati Che hanno fatto gol E hanno portato bonus E hanno portato buoni risultati Mi scrivete in tanti Che in realtà Al di là del meme Ci capisci un cazzo Cringe eccetera eccetera Effettivamente questi consigli Sono seguiti E sono utili a molti di voi Che magari sono anche un pochino Più inesperti Di fantacalcio Lo sapete Io sono un pochino più terra terra Rispetto agli statisti Di YouTube Fantacalcistici Spesso e volentieri Ci metto anche le mie sensazioni La mia intuitività E niente ragazzi Vi auguro Un buon proseguo di giornata O di serata Buona giornata fantacalcistica E tanto ricordate Che vincerete comunque voi Anche questa giornata Un bacio Greve Grazie a tutti 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 Grazie a tutti